Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In questi giorni si sta parlando molto di edilizia scolastica, freddo e quant'altro. Tre consiglieri comunali si sono recati nella scuola di via Algeri dichiarando le condizioni sarebbero disastrose. Dopo il freddo altri disagi nelle scuole siracusane, almeno secondo i consiglieri comunali Simona Princiotta, Salvo Sorbello e Cetti Vinci che hanno effettuato un sopralluogo nella scuola di via Algeri insieme ad alcuni genitori degli alunni. È incredibile come in una città che si vuole qualificare per la qualità della vita ci sia ancora un istituto scolastico come quello di via Algeri. Le condizioni igienico-sanitarie sono davvero incredibili. Entrando nella scuola si avverte una puzza di fognatura veramente insopportabile. C'è la muffa alle varie pareti e quindi ci sono veramente pericoli e rischi per la salute dei bambini, degli insegnanti, degli operatori scolastici. Lo stato strutturale dell'edificio è pessimo. Si vedono all'esterno i ferri del cemento armato che sono ormai esposti alle intemperie. Ma intanto quello che si deve fare subito e per il quale intervento non si deve attendere oltre è una pulizia straordinaria e immediata che rimuova questi gravi rischi, ripeto, alla salute di tutti coloro che hanno purtroppo la sfortuna di dover frequentare questo istituto che si trova tra l'altro in una zona particolarmente a rischio, in una zona particolarmente degradata e che per questo merita ancora più attenzione. Se noi ci dimentichiamo delle periferie, le periferie non si dimenticheranno di noi. Se noi creiamo dei quartieri ghietto non facciamo altro che mettere a rischio il futuro equilibrio sociale della nostra città. L'amministrazione comunale ha risposto riguardo alle condizioni dei termosifoni, degli impianti di riscaldamento che sarebbero stati vandalizzati prima di Natale ma poi ripristinati. Ma su questo interviene il sindaco di Siracusa e l'assessore alle politiche scolastiche Valeria Troia. La situazione siracusana vive un momento di difficoltà, affermano i due. Come amministrazione ce ne prendiamo la responsabilità, l'abbiamo sempre fatto e proprio per questo per la prima volta dopo anni siamo partiti con la mappatura dello stato di salute di tutte le scuole di nostra competenza. Gli uffici tecnici dopo una ricognizione e dopo l'approvazione del bilancio stanno lavorando per aggiudicare i lavori. I progetti riguardano gli istituti comprensivi Archimede e Archia e servono a migliorare le situazioni di vivibilità. Stesso obiettivo anche con il progetto da 50.000 euro che riguarda proprio la scuola di Via Algeri. Ma sul freddo nelle scuole, nelle strutture scolastiche interviene Paolo Italia della FLC. Interventi immediati. Il segretario della FLC CGL Paolo Italia ha chiesto un efficace immediato intervento in tutte le scuole della nostra provincia colpite dal gelo di questi giorni. Il sindacato esprime solidarietà agli allievi e a tutto il personale scolastico dell'istituto comprensivo Nino Martoglio di Siracusa per i notevoli disagi che in questi giorni a causa dell'ondata straordinaria di freddo hanno dovuto subire. Massimo sostegno ai docenti che si sono adoperati a manifestare la necessità degli alunni e altrettanta vicinanza all'apprensione della solerte dirigente. Sarebbe stato opportuno, dice Italia, un preventivo e puntuale intervento dell'amministrazione comunale di Siracusa, organo preposto alla manutenzione e al funzionamento dell'impianto di riscaldamento negli istituti comprensivi. Si sarebbe così evitato l'imbarazzo tra i docenti e la dirigente che secondo noi comunque perseguivano lo stesso intento, la tutela degli alunni. Il freddo nelle aule mina fortemente il diritto allo studio e la salute degli studenti. In questi casi inoltre è auspicabile una maggiore partecipazione e cooperazione da parte dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa, non solo all'Anino Martoglio di Siracusa ma anche in altre scuole della provincia, per verificare, come prescritto dalla legge, che la temperatura minima all'interno delle scuole non dovrebbe essere sotto i 20 gradi. Siamo consapevoli che questi episodi non sono circoscritti ad una sola scuola. Altre scuole nella nostra provincia sono lasciate sole dai competenti enti locali ad affrontare l'emergenza freddo. Sono purtroppo sempre più frequenti, continua Italia, le testimonianze degli studenti delle scuole superiori di secondo grado, non solo del comune capoluogo ma anche della provincia e del disinteresse generale, del libero consorzio dei comuni che dovrebbe occuparsi appunto di questo. È impensabile lasciare da soli i dirigenti scolastici davanti a simili scenari. È fondamentale quindi approvare per tempo i finanziamenti, sia per gli approvvigionamenti dei carburanti che per le altre incombenze relative alla manutenzione degli impianti, oltre a un piano che riguardi l'edilizia scolastica con maggiori investimenti da parte di tutte le amministrazioni, dato che diversi problemi strutturali venuti a galla fin dall'inizio dell'anno scolastico, molte scuole costruite prima degli anni Ottanta presentano, e non certamente, al rientro di queste vacanze natalizie. Libero consorzio comunale, il 26 febbraio si terranno le elezioni per il Presidente. Il Governo regionale ha fissato per il 26 febbraio la data delle elezioni come previsto dalla legge regionale. Eventuali proposizioni di modifiche legislative, dice il Presidente della Regione Crocetta, non possono interferire sulle decisioni dell'Esecutivo, che deve rispettare le leggi. Si rappresenta che la legge nazionale, pur prevedendo la possibilità di elezioni dirette di primo grado, esclude tale possibilità in fase di prima applicazione, per cui chi oggi propone la modifica della data, di fatto, nega questa possibilità. La legge del Rio parla chiaro in fase di prima applicazione l'elezione di secondo grado. Si discute in prima commissione ARS della possibilità di tornare ad elezioni di primo livello anche per i liberi consorsi comunali. Una idea che personalmente condivide, per la quale ho chiesto l'impegno del gruppo dei centristi, anticipa il deputato regionale Pippo Sorbello. È l'unico modo per ripristinare un metodo democratico come quello della rappresentatività. E fuori di dubbio prosegue Sorbello che un rappresentante sul territorio avrebbe aiutato ad evitare lo sfascio a cui abbiamo assistito in questi due anni di riforma zoppa. Abbiamo visto province in crisi, incapaci di erogare servizi, con le strade della viabilità provinciale dimenticate riscaldamenti spenti nelle scuole. I costi sono rimasti invariati negli ultimi due anni. Sono soltanto aumentati i disagi e i disservizi in maniera esponenziale, dice dati alla mano Pippo Sorbello. Il procuratore Giordano in pole position per la carica di procuratore generale di Messina. Intanto vengono avvocate due inchieste dalla procura generale di Catania su richiesta delle parti offese. Per la carica di procuratore generale di Messina in pole position si trova l'attuale procuratore della Repubblica di Siracusa Francesco Paolo Giordano. Secondo fonti del Consiglio Superiore e della Magistratura le correnti avrebbero trovato l'intesa. Per la scelta del successore di Guido Loforta alla procura dello stretto si presentano invece parecchi ostacoli collegati all'equilibrio tra i vari candidati e il gioco delle correnti. Intanto ancora novità sulle vicende giudiziarie che da qualche anno tengono sotto la cappa dell'immobilismo politico-amministrativo indotto la città di Siracusa. La procura generale di Catania ha avvocato a sé due dei tanti fascicoli dei procedimenti penali che riguardano inchieste in cui sono implicati politici, amministratori e dirigenti del comune retuseo. Tra i fascicoli trasferiti alla procura di Catania c'è quello riguardante il procedimento penale a carico di tre dirigenti del Vermexio, per i quali la procura di Siracusa ha richiesto il rinvio a giudizio e una delle ultime udienze era stata fissata per la fine di novembre davanti al giudice per le udienze preliminari, prima dell'avocazione. Si tratta del procedimento giudiziario scaturito da progetti per servizi sociali che i tre incolpati avrebbero svolto durante le ore d'ufficio. La procura di Siracusa ha chiesto giudizio per i tre dirigenti comunali, prospettando l'accusa di abuso d'ufficio. Ieri mattina invece il sostituto procuratore generale di Catania Romina Cantone è stato consegnato dal gruppo del Tribunale di Siracusa Andrea Mignieco a seguito della richiesta in precedenza avanzata. Un altro fascicolo giudiziario relativo alla denuncia per diffamazione che il direttore del periodico e il diario 1984, Giuseppe Guastella, ha avanzato nei confronti di Simona Princiotta. Dalla procura della Repubblica di Siracusa si fa notare come i due fascicoli avvocati dalla procura generale per atto dovuto siano marginali rispetto al volume delle indagini avviate, in itinere o in fase di conclusione sulla pubblica amministrazione siracusana. Il ragguardevole numero dei fascicoli d'inchiesta dal Gettonopoli agli asili nido, dall'affidamento della gestione del servizio idrico alla vicenda stessa. Per finire il processo fantassunzioni, in corso in tribunale, tanti altri ancora sono tuttora coordinati dalla procura di Siracusa. L'intervento da parte delle fiamme gialle, la Guardia di Finanza infatti per spreco di denaro pubblico sequestra 240 mila euro. La Guardia di Finanza di Siracusa, su delega della procura, ha proceduto al sequestro di beni immobili, mobili e conti correnti per un totale di 240 mila euro. Un valore corrispondente ai contributi incassati in maniera illecita dai soci di due aziende agricole della provincia. L'indagine, coordinata dal procuratore capo Francesco Paolo Giordano e diretta dal sostituto procuratore Tommaso Pagano, è stata condotta dal nucleo di PTI ed ha avuto inizio nel dicembre del 2015, quando emersero anomalie nella documentazione di richieste di contributi presentate nell'ambito dei progetti denominati insediamento giovani in agricoltura. L'ispettarato provinciale agricoltura ha considerato che i giovani agricoltori non avevano avviato le opere progettuali presentate, aveva revocato i pagamenti e tentato nel frattempo di riottenere le somme senza ottenerle. La polizia tributaria ha accertato così che sei soci delle due aziende agricole avevano percepito ognuno 40 mila euro accreditati sui loro conti correnti. Le somme erano state prelevate in contante senza neanche avviare i progetti per i quali i contributi erano stati erogati. La procura della Repubblica di Siracusa, al termine delle indagini, ha chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale Andrea Mignieco il sequestro preventivo per l'equivalente dei beni immobili e immobili degli indagati fino al controvalore dei contributi percepiti in maniera illegale, che rappresentano quindi il profitto del reato. I sei agricoltori sono stati segnalati anche alla Corte dei Conti per il danno erariale causato. Avrebbero girato anche un video per documentare l'orrore in casa di Pippo Scarso, l'anziano morto il 15 dicembre, ricorderete, dopo due mesi e mezzo di agonia per le ustioni subite in quell'attacco notturno col fuoco. Durante il blitz punitivo contro l'anziano dato alle fiamme nella via dei Servi di Maria Siracusa sarebbe stato girato un video non ancora trovato per riprendere la bravata di Andrea Tranchina, 18 anni, e Marco Gennaro, 19, entrambi in carcere con l'accusa di omicidio in concorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti erano entrati nell'abitazione di Giuseppe Scarso, 80 anni, per dargli fuoco. Agli spavaldi non era bastato più tirare sassi contro le finestre di casa dell'anziano. Investigatori e inquirenti insistono sulla tesi. Quella sera Andrea e Marco decidono di essere ancora più aggressivi e con una bottiglietta di alcol entrano nell'abitazione dell'anziano. Gennaro con il suo cellulare riprende la scena, scatta una foto a Don Pippo mentre dorme. Poi inizia a girare un video che non si trova più. Tranchina getta dell'alcol sui capelli dell'anziano e accende. Dà fuoco con l'accendino. Pippo Scarso comincia ad agitarsi e a urlare. Da quanto ricostruito fino ad ora, sembra che Don Pippo, dopo essere stato raggiunto dal fuoco, esce di casa in preda al panico, con ustioni sul corpo e con la respirazione affaticata. Cerca il suo amico vicino di casa per essere aiutato e comincia a urlare. Giuseppe Scarso morirà il 15 dicembre scorso. Il Tribunale del Riesame di Catania si è riservato sulla richiesta di scarcerazione avanzata dai legali dei due indagati. L'avvocato Ganci, che difende Gennaro, ha sollevato un'eccezione poggiata su una sentenza della Cassazione, che aveva riformato un pronunciamento del Riesame di Catania, ma è stata rigettata dai giudici. Gennaro si è protestato innocente. Dice di aver partecipato all'azione punitiva, ma di non aver fatto nulla contro la vittima predestinata. Ammette che fu un errore. L'avvocato Aldo Ganci ha annunciato che andrà in Cassazione in difesa del suo assistito. Secondo la sua linea difensiva, l'interrogatorio di garanzia non è arrivato nei tempi e nei modi previsti dalle norme di legge che regolano la materia. Il Tribunale della Libertà si è riservato sulle richieste della difesa. Controlli a tappeto della polizia. Lentini, due marocchini fermati, denunciati, 30 e 60 anni, fratello e padre della vittima per lesioni personali, maltrattamenti e abuso di mezzi di correzione nei confronti di una sedicenne. L'Associazione Carabinieri in Congedo di Siracusa compie 90 anni, i suoi componenti impegnati in campo culturale ma anche sociale. 90 anni compleanno per l'Associazione dei Carabinieri in Congedo di Siracusa questa mattina nella sede di Via Iuvara. Presente il comandante provinciale, il presidente dell'Associazione ha ricordato il senso dell'essere appartenente all'arma anche dopo il congedo e di come l'impegno nei confronti della città e dei cittadini non si spenga mai. L'Associazione di Siracusa nelle scorse settimane si è impegnata anche in piccoli lavori presso il Teatro Comunale di Ortigia. Intanto sabato al Teatro Massimo l'arma sarà rappresentata dalla fanfara del XII Battaglione di Palermo. Non soltanto Teatro Comunale avete dato il vostro contributo, avete anche altre manifestazioni in programma. Sì, ci stiamo adoperando per continuare il nostro impegno nel sociale quindi saremo presenti ancora in questi mesi per iniziative importanti che poi man mano verrete anche informati. Nel frattempo sempre ringrazio l'arma in servizio che ci tiene sempre legati perché siamo sempre noi una continuità di quello che siamo stati. L'arma è importante per noi, è stato sempre importante grazie all'unione che ci lega sempre di più. Basse temperature e basse temperature anche a Palazzolo dove sono state danneggiate le tubature dell'acqua e il sindaco Scibetta quindi invita la cittadinanza a segnalare guasti. L'ondata eccezionale di freddo abbattutasi in provincia di Siracusa ha messo in ginocchio anche la zona montana ed in particolare Palazzolo dove le nevicate di inizio anno ed il gelo hanno fatto scendere le temperature che continuano a permanere basse. Circostanza che ha portato ad episodi davvero singolari numerosi i danni registrati alle tubature e contatori dell'acqua che hanno reso necessario l'avvio di interventi alla rete idrica. Dalla mezzanotte di ieri e fino alle 6 di questa mattina è stata sospesa l'erogazione dell'acqua per permettere la manutenzione straordinaria degli impianti e delle condotte. In diverse case si sono rotti anche i galleggianti di serbatoio nei punti di allaccio alla rete idrica che hanno provocato nell'insieme una serie di piccole perdite, la maggior parte delle quali sono state individuate in alcuni immobili del centro storico. Il sindaco Carlo Scibetta lancia un appello alla cittadinanza affinché segnali eventuali guasti e tubature danneggiate dalle gelate nelle varie abitazioni ma anche negli immobili disabitati in modo da poter individuare i proprietari e risolvere i problemi. Il Siracusa Calcio avvia una collaborazione con la Juventus. Si è parlato di strategie di marketing ma anche di trasferimento in casacca azzurra di alcuni giovani del settore bianconero. Siracusa Calcio e Juventus hanno avviato un rapporto di collaborazione. Il presidente azzurro Cutruffo è stato ospite per due giorni a Vinovo dove ha visitato il centro sportivo della società bianconera e poi nella storica sede di Corso Ferraris dove è stato a colloquio con l'amministratore delegato Beppe Marotta. Dal punto di vista dell'impostazione societaria tecnica e commerciale il dirigente del Siracusa ha ricevuto dal direttore generale Marotta un'apertura molto importante. Marotta si è detto disponibile a un nuovo incontro e di apprendere tutti gli aspetti tecnici e manageriali. Nel corso dell'incontro è stato illustrato anche il progetto del Siracusa Calcio per la realizzazione del centro sportivo. In termini i tecnici e le due società stanno valutando la possibilità di raggiungere l'accordo di trasferimento in prestito di alcuni elementi del settore giovanile della Juventus. Nel corso della due giorni accompagnato dall'avvocato Paolo Giuliano che vanta un ottimo rapporto con Beppe Marotta, Cutruffo ha incontrato il direttore generale del settore giovanile Stefano Braghin, il direttore sportivo della formazione primavera Federico Cherubini e il dirigente responsabile della gestione dei giovani di proprietà Juve Claudio Chiellini. Bene con questo è tutto, era l'ultimo servizio, il nostro TG si conclude e noi vi auguriamo un buon approfondimento di programma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.